una due anni sul miglio, otto in prima, sei in secondi, in quattordici agli ordini lo start Tilde Madi, Giampaolo Minucci, questa figlia di Varenne, la più gettonata al totalizzatore quattordici due anni, miglio seconda del convigno ha problemi numero cinque Trudy Denigrif, perde l'allineamento prende velocità la macchina, arretrato Touchter, numero sette molta cautela per Tilde Madi alla chiusura è il Tigrotto che va facile al comando, l'errore di Tornado che finisce subito a tabellone si va in piegata, è partita alla grande il dodici di Transwall J. Bay quattordici due il lancio, l'alliva di Di Nardo subito a chiedere strada poi take away a precedere Twiggy Griff sta passando Transwall J. Bay e così Antonio Di Nardo al comando questo Daggerapid, lunga fila indiana trentasei quattrocento, la favorita in sesta posizione risale Tolomeo numero nove anticipata dall'otto Telex Falu si va dopo seicento i seicento in totale controllo in quarantasette e mezzo e Transwall J. Bay al comando mentre Telex anticipa la manciata di Tolomeo si inserisce anche Tildemati che va lì che affrontano la penultima curva mezzo miglio iniziale in uno quattro e mezzo sedici e nove di frazione si vaga intorno all'uno e ventuno molto tranquillo la pista però in ottime condizioni Telex viene alla carica ora risponde bene il Daggerapid di Tony Young chilometro rifinito in diciannove e quattro quattordici otti di frazione cinquecento alla meta con Transwall J. Bay al comando Telex Falu a largo si va sulla curva finale non riesce a progredire l'allievo di Minucci che viene tagliata fuori si elimina quella di VP ma viene via la grande take away con il fratello Gaetano allunga bene Transwall e GMB inseguito da take away viene via bene anche Twiggy Griff accoppiata e trova il barco il quattordici di Teorema Teorema cerca la gancia Teorema arriva a bomba il palo si avvicina è sul traguardo Teorema probabilmente stampa l'avversario da rivedere quest'arrivo è arrivata a bomba Teorema è riuscito a fare l'ultima curva è riuscito a fare l'ultima curva andiamo a rivederle queste immagini è arrivata a bomba è arrivata a bomba il Teorema del Francesino arriva a bomba e piomba sul numero dodici Transwall J-Bay è sul palo lo pizzica nettamente quattordici dodici andiamo un po' più avanti uno di take away Francesino il Teorema del Francesino tre euro in chiusura è tutto per il momento è tutto